È stato bravo lui, c'è stata una trattenuta come ce ne sono tante sui calci piazzati ma mi è sembrato eccessivo dare rigore non si può fare altro che accettare le decisioni dell'arbitro se no siamo lì a fare polemiche continue dopo siamo stati bravi a recuperare la partita e nel finale poi è successo qualche successo Allora senza voler ricordare le numerose pallagolle che ha avuto il Pescaro l'abbiamo fatto in abbondanza e volevo parlare un po' della tua partita perché nel primo tempo come se ti mancasse un po' il ritmo avevi qualche problema, nel secondo tempo invece abbiamo rivisto il Balzano che conosciamo tutti si è andato bene sulla fascia tra l'altro da un tuo cross è nato il gol del 2-1 il Balzano dei primi 45 e il Balzano dei secondi, cosa è cambiato? All'inizio della partita c'era Di Mariano che è molto bravo quindi ero più preoccupato per la fase difensiva sono capitate poche azioni poi naturalmente ci sta, erano tre partite se non sbaglio che non giocavo quindi un po' il ritmo partita manca sotto quel punto di vista dopo la gamba si è liberata, nel secondo tempo abbiamo avuto qualche azione in più in offensiva e di conseguenza c'è stata la possibilità di spingermi oltre come di solito accade Antonio, tanti giocatori esperti nel Pescara, in quel finale però avete commesso la leggerezza del secondo rigore, avete subito il gol al 94esimo dopo che la partita sembrava praticamente vinta, chiusa? Purtroppo nel calcio ci sta, capitano, quando loro attaccano ci può stare che rischi determinate cose purtroppo è capitato un altro rigore, è un pareggio amaro, è arrivato agli ultimi minuti perché potevamo sigillare la posizione in classifica oggi con la vittoria purtroppo rigore che non l'ho visto ma mi dicono tutti che pare sia netto anche è un peccato ma manca ancora una partita, cercheremo di mantenere il quinto posto e dopo ci raggiocheremo tutta nei play-off L'ultima, Antonio, prima del gol del 2-1, tra l'altro come detto nato da un tuo cross a me ma a tanti in tribuna non è sfuggito come Scognamiglio che era anche vicino a te urlasse la panchina cambio, cambio, cambio nel momento in cui il Venezia sta facendo una grande pressione insomma che cosa vi siete detti tra i più esperti lì dietro? Ma io non l'ho notato, cambio forse perché volevamo essere più coperti visto che sapevamo che il Venezia l'avrebbe provato in tutti i modi a pareggiare la partita quindi di sicuro era... No, prima sull'1-1 Sì, quando c'era il momento in cui Fiorillo ha fatto quella parata poi per rotta ha salvato sempre sul tiro del centrocampista del Venezia lì si è un po' arrabbiato Scognamiglio perché forse mancava, eravamo un po' stanchi e quindi ci voleva qualche cambio per dare un po' di frescazza magari al centrocampo, non lo so, non l'ho notato io io so che abbiamo dato tutto quello che avevamo ed è un peccato perché potevamo portare a casa una grande vittoria oggi purtroppo il calcio, quindi penseremo alla prossima Grazie a tutti